Lì c'è un grande arco e c'è una cosa che si vede l'altra navata. Guardi, la chiesa madre dei francescani in Italia, lo sappiamo, è la basilica di Assisi ed è gotica. E quindi quello è il modello a cui si sono ispirati, perché è chiaro che una volta oggi vale a crociera con colonne, con pilastri a fascio polistili, però chiaramente c'è per esempio, ci sono dei capitelli che sembrerebbero quasi di origine bizantina, a traforo, questi animali che si incontrano in language. Quindi è una commistione, perché siamo nell'Italia meridionale, quindi noi abbiamo avuto questa attenzione anche verso l'Oriente, siamo stati legati a Bisanzio e quindi c'è il discorso dell'ascendenza greca. E ancora in base di restauro? No, quella si chiama sinopia, quella è la cosa dell'umidità. Si, si è staccato. Si, la pellicola, si, l'ultimo strato è in tono che è andato perduto. Hanno voluto lasciare a vista il disegno preparatorio, che si chiama sinopia. Sulla sinopia si stende il mutuo, quindi sono giustificati per questo gli occhi. Grazie a tutti.